No, io ho fatto soltanto, volevo soltanto fare una riflessione su un passaggio diviano, ma non diceva, passano le giunte, il volum rimangono, e la stessa riflessione mi è venuta quando il professor Lucarelli ha fatto, ha delineato un po' il confine tra la democrazia partecipata sia la democrazia e la presidenza. La riflessione riguarda questi due passaggi e oggi mi sarei aspettato, nonostante questa piatta di quale sia la mia posizione rispettata al forum, mi sarei aspettato la presenza dell'assessore di Canabini, perché il forum rimane, se è giunto la nuvia, se il forum è istituzionalizzato. Quindi io ancora non ho capito, se noi ci troviamo in passata dell'aggiunta, perché certamente ci viene concessa e quindi ci dice che fare quello che volete, così come potremmo fare, per esempio, a Santa Maria la Nova o a Santa chiara, oppure se stare in questa stanza significa che c'è un'assunzione di responsabilità istituzionale, la parte dell'assessore per istituzionalizzare il forum e per assumere a sé, in qualità di politico, in qualità di rappresentante dell'aggiunta, le istanze della società civile, perché riconosci. A me questo massaggio manca ancora, se qualcuno mi lo chiedisci, mi piace.